è il Ryujinx che è un altro bellissimo emulatore che praticamente va a sostituire puttana Eva ho chiuso la pagina io invece me l'ero preparata fuori beh è uguale abbiamo Chrome aperto è un altro emulatore che fa tipo le feci dello Yuzu nel senso che se lo Yuzu non funziona voi potete usare quello lì o comunque potete usarlo lo stesso chi se ne frega allora vediamo un po' come cazzo è scritto ok così benissimo l'ho scritto sbagliato ah sì perché l'ho scritto con i normale invece scritto con l'edizione allora emulatore di Nintendo Switch semplice e sperimentale vabbè le solite minchiate allora questo è il suo bel sito prima però mi aveva fatto andare da un'altra parte comunque poco importa allora la solita roba adesso qui purtroppo c'ho Chrome che mi traduce sempre ma vabbè vi scaricate la versione corrispondente al sistema operativo che utilizzate Linux Mac OS proprio Mac OS immagino milioni e milioni di persone lo stanno usando per giocare con Ryujinx lo scaricate e in realtà adesso io forse non ce l'ho neanche... no ce l'ho su... ce l'ho copiato a parte che questo l'ho copiato intanto... no mi sembrava di sì ma forse... è un bel interrotto... no lo sta copiando... eccolo qua... e allora perché qui non lo vediamo... mistero comunque va beh allora voi prendete il vostro Ryujinx che è questo qua e a differenza non so perché si chiama publish la cartella non ho più pallida idea ma comunque la rinominate col nome dell'emulatore che è meglio... allora prendete tutto quello che avete qui così... quello che vedete qua... nel RAR... anzi nella cartella si nel RAR fondamentalmente... ve lo copiate nella partizione... nel disco che volete perché dove ve lo volete filare ve lo infilate... che... eccolo lì è comparso... che praticamente per me corrisponde a quella cartella qua... ecco... a quel punto lì lo fate avviare... però quando vi si avvia in pratica questo è un po' più stronzo dello Yuzu perché va esattamente sulla partizione principale... ho sbagliato... va sulla partizione principale esattamente come quell'altro però questo a differenza dell'altro purtroppo rimane tutto lì a rompere i maroni... tolta la cartella... di dove si devono buttare dentro i giochi... che quella ve la potete buttare dove volete... quindi vi finisce dentro qui... ah questo tanto per intenderci è quella che mi ha fatto vedere la settimana scorsa che si faceva... visualizza... mostra... elementi nascosti... fate venire fuori questa cartella... rimane dentro nel vostro nome sul profilo... almeno su Windows 11 e su Windows 10... mi sembra che è una cosa praticamente identica... ma non so se si va a prendere esattamente da lì... non me lo ricordo più... e qui sotto lo dovreste trovare... eccolo qua... e lui quando l'avete avviato vi crea tutti questi belle cartelle del cacchio... e quindi state attenti perché quando installate qualcosa tipo le mod... o quel cacchio che è... anziché potervele buttare come si fa con lo Yuzu dall'altra parte... quindi magari vi tenete la partizione principale libera... qui invece vi si va a finire tutto dentro quella principale... e tendenzialmente vi riempie di merda il computer... questa cartella Games in realtà non è quella dei giochi... cioè quantomeno non è quella dove buttate le ROM, le ISO, compagnia bella... ma è una cartella che se non ricordo male si crea... questa è la cartella delle mods... e se non ricordo male dovrebbe funzionare esattamente più o meno la stessa maniera... l'unica differenza credo che qui le mod... si buttino dentro direttamente nella cartella perché vedo che c'è scritto il nome... non ho mai provato con questo... devo essere sincero però... però se non mi ricordo male... adesso lo apriamo... c'è una cartella che dice di installarle... quindi dovrebbe funzionare già per i cazzi suoi... l'unica cosa che dovete ricordare di fare con questo... perché poi se ci pasticciate su praticamente è uguale all'altro... è fondamentalmente identico... è di prendere questa cartella qua... BIS... contenuti registrati... ecco qui buttate dentro il firmware... che è quello che facevo vedere l'altra volta da Yuzu... che comunque per intenderci... è questo... ecco... questo qui è il firmware... tanto sono riuscito a trovare i firmware che funzionavano... da tutt'altra parte... per avere quelli più aggiornati che il 1603... è questo qua... e lo copiate dentro qui così... vi si copia tutta sta meraviglia... qui non so perché lui li vede come cartelli... ma vabbè... comunque sono i firmware per lo Yuzu... si vanno comunque a prendere da esattamente dove vi ho fatto vedere l'altra volta... comunque cercate il firmware Yuzu... risalta fuori... adesso io lascerò un link... ma comunque vabbè... mentre invece... le chiavi... no non per Yuzu... per Ryujinx ho sbagliato... mentre invece per le chiavi... il discorso è lo stesso... e sono esattamente le stesse prod key e title keys che si sono qui così... e questi invece... si vanno a mettere sempre nella partizione principale... adesso non lo troverò... l'ho guardato apposta prima per non cercare di non dimenticare... ma non eccolo qua... si va a infilare nella cartella sistema... system... si copiano dentro... e a questo punto il vostro Ryujinx... o come diamine si pronuncerà che non ho la più pallida idea... è pronto per essere utilizzato... quindi voi vabbè... in teoria l'avete aperto la prima volta... vi ha creato tutto... adesso dovrebbe degnarsi di aprirsi... ok... fa sta roba... anzi può anche essere che la prima volta vi dica... cioè... sai quella roba è solita... ti dice questa roba è pericoloso... sei sicuro di voler... ecco... lui... doveva rompere il cazzo con un aggiornamento... chiaramente... e comunque fa tutto da solo... se avete spuntato gli aggiornamenti automatici... lui fa quello che deve fare... poi si chiederà di riavviarsi... adesso facciamogli fare quello che deve fare... non ci mette mai moltissimo di solito... è piuttosto rapido... ecco... mi raccomando non chiudete la cartella quella che vi... cioè la cartella con la finestra qua... perché se chiudete questa si chiude comunque anche l'emunatore... quindi non c'è niente da fare... arrivati a questo punto... allora praticamente è simile allo Yuzuma... non è proprio uguale... comunque c'è questa roba per mettersi i giochi favoriti... ma non è davvero l'hard disk pieno... adesso qui io non ho copiato neanche l'update per coso... e qui... solite cose per fullscreen... per fare via dei giochi in fullscreen... ma a parte che... opzioni settings... eccolo qua... io se devo essere sincero... ah ecco la prima volta... dovete mettere dentro la cartella... dove vai a prendere i giochi... e quindi io per comodità ho tenuto quella di Yuzu... per non pasticciare... ma dopo bisognerà che li disinstallo... faccia una cartella a parte... che pescano tutti i video da là... senza andare a prendere a sedire... sull'emulatore... comunque questa va la create voi... gli dite voi dove andarla a prendere... non ve ne frega niente... questo qui è nel più nemmeno... credo che il tema... colorato qui sullo sfondo... questa roba qua io non ricordo proprio neanche... ecco la cosa brutta di questo è che non è in italiano... non scordo il cursore... mai... ecco questa roba... questa roba qua non so neanche... ma la sceglietevela come cavolo vi pare... quelle robe qui... ecco per esempio quella roba qua di discord... mi sembra che ce l'ha anche qualche... forse ce l'ha al simu... o ce l'ha pure... non mi ricordo... non l'ho neanche mai provata... a tal proposito vorrei pubblicizzare il nostro meraviglioso canale... sono canali con i discord... ecco... discord dove non c'è chiaramente nessuno... ci siamo solo noi due... quindi se vi iscrivete... ci mandate a fare in culo... sapete tranquillamente... che quelli che vi risponderanno siamo noi... che roba... e pensa... parlano... con delle cibilità... c'è la liberità... e andiamo a fare in culo anche noi... a nostra volta... andiamo avanti così in eterno... il nostro benissimo canale di discord sarà semplicemente dedicato... a mandarsi a fare in culo... in continuazione... il link per il canale di discord è sicuramente sul canale di youtube... perché lì te lo lascia mettere... e direi anche su facebook... vado a memoria... sì... penso di sì... questo è per configurare il... come diamine si chiama... il controller... allora... anche qua... questo... vabbè... è per abilitare la versione 8... altrimenti... il gioco vi va meno spinto... questa è la configurazione del controller... adesso non so perché vada così... l'ha fatto anche la prima volta... ma dopo... fate così... va a posto... adesso io l'ho già impostato... quindi niente... ma comunque... io gli ho impostato... ma se fosse un pro controller... e qui ho messo il mio joypad che sto utilizzando... quella roba qua... se non mi ricordo male... viene già tutta fuori a posto per i cavoli suoi... l'unica roba che eventualmente si può... mettere mano subito... che mi sembra che sia... che sia più basso... credo... sia la roba del rumble... della vibrazione... ecco... il resto mi pare che sia già a posto... io sinceramente non l'ho minimamente toccato... ad ogni modo... se dovete cambiare... è uguale lo stesso discorso dell'altro... potete fare scegliere i joycon... o il joycon interio... o il destro sinistro... ecco... fate quello che volete... se volete potete salvarvelo come profilo... sono lasciato così com'è... salvate... chiudete... e così vi resta... questo... se non ricordo male... non si può vedere quando si muovono gli stick... e infatti non si vede niente... ma comunque non importa... perché lo configurate... potete configurarne... una marea... otto addirittura... e poi c'è anche il portale... diversione importabilità... se vedete potete configurare che quella... a regola comunque parte già di base... quindi ok... qui... questo qui... è il discorso sempre la solita... la roba dell'ora... vabbè sì... lingua di sistema... regione... questo... non mi ricordo come ho fatto... fargli venire fuori Europa-Roma... perché... comunque... è sbaglio... perché questa non è quella... questa è quella se vuoi settarla tu... ah ok... è quella... non è quella automatica... è l'ora in cui l'ha aperto... perché probabilmente è l'ora in cui l'ho aperto... ed è rimasta... non lo so... questa comunque non la toccate... se voi qui mettete... così... com'è... anche questo... lì per lì... viene fuori UTC... se non mi ricordo male... io non capivo... cercavo di scrivere... avevo scritto anche chat... ma non... non faceva niente... a un certo punto non mi ricordo... cancellando una lettera o due... è venuto fuori tutta la sfilza di fusi orari... e a quel punto lì ho scelto Europa-Roma... e quindi prima non esiste più... a meno... non dovrebbe esistere... io non ho mai controllato l'ora... ma dovrebbe funzionare così... il v-sync... per sicurezza... io ve lo metto sempre... questa roba qua... devo dirvi la verità... lasciatela così come... io non l'ho neanche proprio toccata... questa roba qui del volume... idem... forse l'ho tirato al 100... prima non era così... ma non sono neanche sicuro... tutte queste solfe qua... io non le ho toccate... e secondo me non vale la pena di farlo... e qui siamo al solito discorso... io ho messo le Vulcan... perché a me va bene... Vulcan se no ci sono le OpenGL... in linea di principio... comunque vanno tutte e due... poi dopo... questo qua... l'ho lasciato automatico... anche se in teoria... molti trading dovrebbe andar bene... anche on per me... ma comunque va bene... l'ho lasciato automatico... si arrangia da solo... questa è la roba degli shader... queste sono le macro... queste robe qui... per ricomprimere texture... onestamente... riduce l'utilizzo della VRAM... quindi io non l'ho messo... perché ho detto... ma si... vi andare... anche perché... ripeto... il problema... prima Yuzu aveva voglia di fare... un po' lo stronzo... però devo essere sincero... la prima volta che mi capita... di vederlo andare così... ma probabilmente era proprio... perché facevamo streaming... e settimana scorsa... con quei due giochi... che abbiamo provato... non l'aveva fatto... questo è il solito discorso della risoluzione... ehm... la prima è sempre quella... in portabilità... la seconda è quella... in dock... quindi se ci giocate in dock... alla fine... mettete la massima su quella del dock... chiaramente... quell'altra rimane inferiore... non si può fare la stessa su tutti e due... purtroppo... secondo me è un po' una cagata... ma non si può fare... così anche lo Yuzu... questo però ha molte meno risoluzioni... a meno che di utilizzare le custom... però è... perché lo Yuzu con le custom saltava... anche questo... questo è l'anti-Alias... io sinceramente non mi ricordo mai... qual è la... qual è il migliore di tutti... sono andato per esclusione... scendendo... ho detto... l'ultimo sarà più alto... poi c'ha scritto Ultra... ha detto... effettivamente comunque il suo lo fa... anche perché poi è già comunque 4k... quindi... c'è già meno bisogno... questo mi sono messo ancora... RFSR dall'AMD... nel dubbio... ma... potete mettere bilineare... volendo anche quella... o... questo è niente... il resto è detto... che dovrebbe essere... mi ha re vicino... mi ha re vicino... ma non so che... non so quale sia... io non mi ricordo quale dava di base... forse... forse dava il bilineare... forse dava il bilineare... io ho messo quello dell'AMD... che ho visto che sono individuato... andava abbastanza bene... questo... credo che ve lo dino... automatico a 16 noni... ma... mettetelo come siete comodi... con il monitor... barra... e questo è una misotropic... che io sparo sempre il massimo... ma si può mettere... si può mettere come si vuole... poi vabbè... chiaramente ogni volta... applica e salva... perché sennò... tutta questa sfida di roba... io non l'ho... penso proprio... nemmeno toccata... e vi posso garantire... che così come funziona... però nel caso... potete sbolicare... sopra qualcosa... anche se non so neanche... benissimo... cosa serva a tutto questo... un baradal di roba qua... per queste edizioni... debug... frega un cazzo... questa roba... sono tutte le robe dei file... però... si... quando succede qualcosa... ti fa il log... si... ok... vabbè... volendo si può anche... tirar via... credo non cambi niente... questo qua... siamo sempre al solito discorso... tecnicamente... potreste mettere... questo non so che cosa sia... non ho proprio... se no c'è internet... che è quello che... in teoria... dovrei usare io... però io avevo notato... l'altra volta... con quello di Captain... su base... anche se mettevi... che c'avevi internet... quello si metteva... a girare... non andava da nessuna parte... quindi magari... questa roba qui... cambiateva la seconda della comodità... e basta... direi che qui... poi alla fine... praticamente non c'è altro... se volete installare... il firmware... non c'è problema... perché questa roba... di concetto la trovate online... la buttate direttamente... dentro una cartella... ma potete farlo voi... e basta... perché questa roba qua... non serve a niente... se no... ci sono... non mi ricordo più... ecco... ok... da qua... credo... c'era qualcosa per installare... ecco... l'editor dei Mino... l'ho mai provato... sinceramente... ecco... forse per invece... installare... le mod... forse facevo così... era da qua... non mi ricordo più... adesso questo... mi ha buttato dentro... sulla cartella del firmware... che non c'entra niente... ma se non mi ricordo male... per installare... le mod... cioè... gli update... ho fatto così... le mod... secondo me... sono anche la stessa cosa... perché qui non è... specificato... per cui... secondo me... si fa col mestiere qua... scegliete la roba dal file... lui vi apre la cartella... che però... non è quella giusta... non so... perché mi apra questa... ma... non ci frega niente... gli fate caricare la... l'update... io ne ho provato un update... adesso non sto qui a metterlo... perché sono poi... devo far vedere... ma comunque... insomma... se vi serve quello... o le mod... secondo me... questo... perché non c'è modo di fare altro... questo peraltro... non so neanche... gioco spacchettato... non so neanche cosa intenda... quindi basta... sicuramente... ho fatto sicuramente... adesso non me lo ricordo... precisamente... ma ho fatto sicuramente così... perché non vedo altre impostazioni... per installare la roba... quindi ho sicuramente... fatto così... e sono andato a prendere la roba... e l'ho buttato dentro... l'ho fatto con l'update... ma immagino che la mod... sia esattamente la stessa cosa... perché... oppure... va copiato direttamente... nella cartella... come ho fatto vedere prima... con lo Yuzu... o meglio... va copiato dentro... in quelle cartelle lì... separate... che ci sono... su questo devo essere sincero... io non l'ho visto fare da nessuno... quindi non ne sono certo... al 100%... qualora qualcuno abbia bisogno... mi faccio un fisco... che magari... anch'io mi andrò a informare... anche perché... non l'ho fatto... per il motivo semplice... che poi... questo coso... intasa... la partizione principale del disco... e io sono sempre a cortissimo... in memoria... perché è piccolo... un ssd 250... ed è un po' un casino... poi... una volta che comunque... avete fatto quello che volevate fare... sì... secondo me... le moto si buttano dentro... come quell'altro... guarda... è una cazzata... è molto più semplice... dell'altro... si fa così... ora... si si... ok... ma si va a prendere da qua... lo caricate... e vi va dentro... ok... semplicissimo... una stronzata... è perfino più semplice... dello yuzu... quindi così... oppure... i cheat... sinceramente... non li ho mai usati... non so proprio dire... le mod evidentemente... vanno buttate dentro... esattamente come le altre... si buttano qua... la cartella... si buttano... aprite la cartella... e le buttate dentro... quindi funzionano... esattamente come quell'altro... di Alan Wake... che sinceramente... non ce n'è... quindi non so... ci sono anche queste atmosphere... qui... ma non so cosa siano... perché credo che... ci vadano a riguardare... l'Sd... che viene simulata... chiaramente... ma io non l'ho mai utilizzato... questa roba... è per restare le rome... compagnia bella... vabbè... chi se ne frega... non la fa nessuno... perché tanto comunque... tutti i giochi... li prendono... nell'iteri... ecco... mettiamola... allora... voi lo avviate... poi dopo con il doppio click... come al solito... questo a differenza dell'altro... se ha voglia di partire... ovviamente... perché... abbiamo capito... che stasera... fa un po' dispettoso... ok... allora... questo a differenza dell'altro... se non ricordo male... si... puoi spuntarlo in full screen... ma non ricordo più... come si esca dal full screen... ecco... ma adesso lo vediamo... adesso facciamo una prova così... veloce... per far vedere... probabilmente esco... sì... o esco F11... come quell'altro... per quell'altro... lo Yuzu... si toglie con F11... questo l'ho provato... e funzionava... adesso se non funziona... neanche questo... che vuole fare il balordo... vuol dire che è stronzo... è stronzo e... com'è che era quella cosa... del... è stronzo e insensibile... quello di Alien... allora... no... lingua inglese non ci interessa... eh... dialoghi filmati... vabbè... ok... basta... lasciamo così... adesso vi salvo... anche se io non volevo che salvasse... ma vabbè... era solo per provare... allora... la differenza rispetto alla versione dell'Xbox... che l'ho provato... si nota... ma comunque... vabbè... non è così... tremendo da vedere... rispetto... Xbox Series... la intendo... però... non parlo della... dall'originale 360... perché allora lì... penso proprio che sia molto meglio questa... perché... come diceva il mio professore in matematica... eeeh... non c'è... perché... così... non so... c'aveva questo vizio... e poi tutte le volte faceva... eeeh... così... no... infatti scriveva con la macchina... ma neanche che non... no... ogni tanto lo vedi qua... ma che è una schiera nel gioco... e... non scrive mai... schiera... Simone... mi fai una cortesia... indovina un po'... ci sarebbe la cuffia carica... copri... copywriter lì... no... magari... ghostwriter... e lui non fa niente... bene... e tutto iniziò con un sogno... adesso vi facciamo vedere il sogno... poi va bene... non è che stiamo qui a farlo andare tanto per le lunghe... non è che facciamo una wake... cioè... lo potremmo pure passare in streaming una volta così tanto per... ma insomma... adesso Gianni ha visto questo e fa... bellissimo la wake... mi fate la wake... e chiaramente lui è l'unico spettatore che abbiamo... questo ci obligerà... a far vedere la wake... sperando che poi funzioni bene... perché... io so che funziona fino a tipo due secondi... poi dopo non ho fatto non dare... di solito... ci facciamo sempre riconoscere... il solito pirato dalla strada... hanno messo sotto Taylor... l'arbitro colore dell'anoma dell'altra sera... da notare che Alan Wake... dovrebbe essere ricco sfondato... o quantomeno... si è una merda... e si veste... a parte la macchina che fa schifo... ma... vecchia come me... ma... di più di me probabilmente... ok... la macchina è presa a nolo... ma lui è vestito come un poveraccio... lui sembra un... clochar... perché lui è uno umile... e poi c'è anche il cappuccio... dietro mi sembra che... c'è forse anche il cappuccio tipo... alla felpa col cappuccio... si alla felpa col cappuccio... tipo rapper... un po' così... niente da fare ragazzi... con lo streaming che va... e tutto un po'... ah... sta cosa... sto lampeggiamento dal... dall'emulatore... però me lo ricordo che l'ha fatto anche l'altra volta... me l'ha fatto anche... ah... giusto... devo guardarlo... se no... no... non voglio invertire i comandi... ok... posso muovermi? no... questo... questo per esempio... non rompe le palle... mi sembra che funziona regolarmente... a parte forse qualche scatto sul salvataggio... ma... che non faceva... ma per il resto mi pare che vadano... sì... comunque non è tanto diverso dalla versione... cioè... da quello che ho giocato su serie X... più o meno... dovevo recarmi a farlo... sapevo che qualcosa di importante... mi stava aspettando... oh sì... il gioco è anche carino... l'ho anche giocato abbastanza di recente... non è... cioè... il gioco era bello all'epoca... non è che... non è che sia carino... è giusto... però di... ma però... no... bisogna ricordarsi i tasti... perché ha... per lo Switch... la B è la A... e la X è la Y... e la Y è la X... però il problema... oltretutto... è che poi in realtà... però... le azioni si fanno... come se fossessi giocando con l'Xbox... ah poi... una cosa super figa... rispetto... alla versione che ho giocato... avevo anche provato del PC... è che lui... vibra in continuazione... senti che roba... tu ti muovi... e vibra sempre... cioè... fa vibrare i passi... che probabilmente... con i cosi dello Switch... sarebbe una cosa più spettacolare... perché ha una vibrazione più ricercata... però la vibrazione di questo... non è male... uno ha dei problemi... mio Dio... Taylor è ritornato... ed è incazzato nero... non si capisce se ne ha... non penso che ne abbia poi... particolarmente... motivazione... ma da notare che lui non salta giù... starà lì così... guarda... spacca... spacca così a caso... non gliene frega niente... spacca la roba a caso... riesce a tirar giù un palo così... con una ceta... ecco... e tu dici... adesso scende... mi ammazza... non sta lì... solo un pagliaccio... non ci sarebbe una sola frase decente... nei tuoi libri... ah hai capito... il suo revisore... eh... merdaccia... ti ucciderò... vabbè... le tue storielle non sono... quanto cazzo parla... sei una merdaccia... vabbè... vabbè... e la vedo un po' così... tutto nero... e sparisce... non è nulla... pure se ne va pure... dopo che ha distrutto tutto quello che potete distruggersene... ma adesso voglio ritornare la curiosità... posso tornare su... no... no perché è così... vuoi vedere che c'è qualcosa qua... sai che non ho mai... sai che... non mi è mai venuto in mente di guardare... no... forse... non si può... perché non si può andare... adesso more in awake... perché è tutto buio... sai... mi aspettavo che ci potesse essere lì... una cosa... sai... i thermos... che sono collezionabili... vabbè... comunque avete visto che funziona... adesso... no... ecco... se per esempio... se... usi il telefono sul... sul codice a bar... e si sul QR code... mi sembra che vai sul sito della Remedy... mi pare di ricordare... perché avevo provato per curiosità... ho detto... ma cosa si fa... se si va sul... se si schiaccia lì... mi pare che si torna... si... Alan Wake... Alan Wake... ha delle movenze un po' così... che denotano la sua età... visto che ormai Alan Wake... credo che così... abbia almeno 10 anni... però fa delle... questo... in teoria l'aveva già segato in due... ma per il gioco... ho schivato l'attacco... quindi vabbè... questo tutorial è un po' così... un po' de mode... vabbè... come sempre... è veramente un ninja... quell'altro sparisce... in preda alla mestizia... è sparito nel... è un personaggio di merda... è un personaggio di merda... però vai e viene in continuazione... è anche un po' fastidioso... a un certo punto... qui ha tirato una scorreggia... l'autostoppista... visto che roba... ecco... a me è una cosa che odio... veramente di Alan Wake... è che lui fa una corsetta... dopo un po' si stacca... è veramente... questa è una cosa che veramente... vi fa anche rischiare di morire... qualche volta... e mi ha sempre mandato in bestia... perché io... sono uno completamente senza fiato... proprio... ma non l'avevo neanche... quando avevo 5 anni... è come se fossi un fumatore... anche se io non ho mai fumato in vita mia... cioè io e la corsa proprio... siamo su due pianeti... distanti... milioni di anni luce... però... voglio dire... in preda... cioè sei inseguito da uno che ti vuole ammazzare... cioè penso che comunque... se puoi correre per 10 secondi... in una situazione del genere... preda il panico... probabilmente... se corri 10 secondi nella normalità... in quel caso lì... ne corri 50... perché poi magari... muori miseramente... perché non respiri più... non ce la fai... però più di prima... sì... e invece questo non corre un cazzo... cioè non corre mai... fa una corsetta due secondi... e poi si ferma... oppure comunque cammina... intanto gli altri sono lì che lo prendono ammazzate... e lui sta di così... muori muori... perché questa scena potevano farla più bella... che tipo lo si vedeva proprio sangue... e invece non l'hanno fatto... non hanno sangue neanche così... neanche qui... magari l'ha decapitato e non si vede che gli stacca la testa... queste cose le potevano fare... lo rendevano più interessante... magari più gore... ma fa niente... comunque a me sarebbe piaciuto di più... mettiamola così... si comunque a vederlo... non è tanto diverso... dalla versione console... dalle console... dalle versioni console più spinte... però chiaramente qui parliamo... della versione switch... che viene masturbata su dell'emulatore... muori muori... muori muori... adesso mi sembra che... ti apre... ma noi possiamo anche interrompere... perché tanto comunque abbiamo fatto vedere... comunque ricordatevi che le cartelle... le due cartelle lì che... mi sto veramente cagando sotto... non ho mai trovato un gioco pauroso... era carino... mi era piaciuto... ma non ho mai trovato un gioco pauroso... ha detto... se erano cazzi... dovevo uscire... Tommy Poeta... Tommy Poeta... te pensa... non si sa chi sia... ma... credo che sia quello... a vedere così sembra... oh... esci però... cazzo... mi ha fatto anche male... segui la luce... si... segui la luce... io dico... vabbè... allora vado di qua... no... lì è tutto chiuso... sei una merdaccia... sei uno scrittore mediocre... che poi in realtà la vita non te la tiri su con la luce... cioè... è soltanto l'inizio qua... perché poi... c'hai i medikit per tirarti su la luce... là la luce la... la vita... qualcosa per me... ah no... perché lui non sapeva... che ho il prelato che chiamava casa... un profondo oscuro... c'è a me... ah... cerchiamo la gente che guarda lo streaming... nessuno... ahahah... vabbè... comunque funziona così... avete visto... adesso... per tornare fuori dallo schermo pieno... f11... mi ricordavo giusto... questo non ha... ecco... per esempio... rispetto all'altro... l'altro c'ha... pausa... stoppa... vabbè... riprendi... ok... ma c'è anche riavvia... nel caso che dia rogne... ah no... però c'è... riesuma... no... riesuma emulazione... non c'è... non c'è riavvia... manca... manca il riavvio dell'emulazione... su questo... per esempio... ma non fa bene le scale... nel senso che... potrebbe andare bene... questo... e deve sistemare tutto... l'autostoppista è posseduto... vedi... in realtà... B corrisponde alla... bisogna ricordarsene... perché se no... cioè... uccidiamo l'autostoppista... poi stupiamo... perché tanto abbiamo tirato... già fuori tutto... gliela fa arrivare giù così... è il padre eterno... che gliela mai... ecco... è la manna... brucia l'oscurità... brucia... brucia l'oscurità... intanto però... ti fai fuori la batteria... e io... non la sto vedendo in schermo... perché ho fuori l'altra roba... quindi... no... col cazzo che colloco la pila... dai... ha bruciato l'oscurità... ah... non è ancora... comunque... no no... finché non fa così... non è... notare che il nemico è scemo... perché sta lì così... non si rende conto... eh... non può essere liberato... tanto stoppista... non è che sia proprio finito... tanto stoppista... è proprio un deficiente... la pistola... vola dal nulla... verso l'uomo... dice... puntalo... e tu spari... non è un mirino comunque... cioè nel senso... spara dove c'è la luce... ma... non è morto... è la madoshina... quando è che muore... tipo... ricarica gamma y... in realtà... per il controller microsoft... è la X... e non solo il controller microsoft... praticamente tutti i controller pro... la nintendo ha i tasti invertiti... i giapponesi hanno tutti un modo loro... per fare i tasti... cioè la sega aveva i tasti come la microsoft... la nintendo ce li ha il contrario... la sony c'ha i simboli... non potrebbero... sai quanto sarebbe bello... se si mettessero d'accordo tutti... e facessero tutti una... i tasti fatti la... no perché loro li ho fatti vedere... si... ok... però nel senso... vabbè... ok... abbiamo fatto vedere... allora voi stoppate... se no... in realtà non è necessario stopparlo... si può anche chiudere... ma comunque... anche perché... sto stoppandosi... ok... allora... e quindi abbiamo fatto vedere... funziona così... e fate un bel pisolino... adesso potete fare un bel pisolino... anche se non ve lo consiglierei... perché se cazzo... guardate a fare lo streaming... se vi fate un pisolino... non lo stanno guardando... molto semplice... non lo stanno guardando... adesso non lo stanno guardando... eh... magari uno lo guarda in più riprese... si... ah beh... questo è vero... potrebbe esserlo... guarda puntate... allora... andiamo a riprendere la nostra iso... e sbattiamolo via... ecco... ecco... i salvataggi... con quel coso li... vi rimangono... come dicevo prima... sulla partizione principale... ed è un po' una rottura di palle... perché rispetto a quell'altro... sono un pochino più difficili da identificare... infatti io non ve lo dico... adesso non prendete la cosa con le pinze... perché... sono andato per deduzione... perché sono simili a quell'altro... quindi questo... no... non è questo... è sotto... non è qua... è qui... ecco... ecco... dovrebbero essere questi... questi credo siano i file di salvataggio... perché un po' di roba l'ho provata... probabilmente li ha creati... che ore sono adesso? 19.08... oggi ne abbiamo due... è questo... questo è il file che abbiamo creato prima... allora... volendo si può prendere la cartella... e buttarla anche via... ve la ricrea automaticamente... nel momento in cui... lo riavviate... però vabbè... se entrate... prendete i file così... li sbattete via... chi se ne frega... invece... il discorso invece degli update... immagino che vadano a imboscarsi qui... perché dovrebbe essere la stessa cosa dell'altro... credo che sia dentro sotto contenuti... mi pare di ricordare che li avevo trovati qui... contenuti registrati... e qui dovrebbero trovarsi le cartelle... con gli update... credo... o forse sotto sistema... no... sotto sistema c'è il firmware... quindi dovrebbe essere sempre sotto user... contenuti qua... dovrebbero essere sotto qui... dovrebbero esserci gli update... le modi invece vi apre la cartella lui... quindi siete sicuri che le mettete lì... esattamente come lo uso... però questo dovete provarlo... io non ve lo dico con certezza assoluta... cioè i salvataggi sicuramente sono quelli lì... ma lo avvene... dovreste rendere conto... perché se guardate quando avete avviato il gioco... vi rendete conto di quando è stato avviato... proprio quanto il mestiere... e quindi... tra la data e l'orario... quindi vi fate un'idea... basta... direi che siamo a porto questo... però non capisco perché... forse... ah no... crea la cartella... vanno messi qua allora... in realtà non gliene frega niente di questi... non so... queste sono patch effettivamente... non sono mod... quindi forse lei... lui le identifica in maniera diversa... non so... con questo devo essere sincero... non ho provato... comunque... da come funziona l'emulatore... funziona esattamente come lo uso... quindi le prendete e le buttate dentro... come dicevo che... va sulla... sulla partizione principale... ed è una rottura di scatole... micidiale... perché vi occupa un sacco di spazi... se no... dovete ricordarvi di cancellare... cioè... il mio consiglio di fronte a una cosa del genere... è quella di... buttare dentro un gioco alla volta... cioè... uno sarebbe comodo... che avesse un mega hard disk... dalla madonna... se tu hai un pc... che si è fatto un disco generale... tu hai un pc solo emulatore... tipo 20 terabyte... e allora a quel punto... è solo una partizione... butta dentro tutto lì... perché dice... tanto non me ne frega niente... allora a quel punto... te ne puoi anche fregare... perché tanto comunque... è un pc dedicato a quello... e quindi te ne frega niente... in caso contrario... però no... è meglio... non fare quel discorso lì... perché sennò sono cazzi... adesso...